per ricky sarà la prima festa del papà da quando è arrivato enea anche se lo era già con nadine gnomo io mi sono organizzata un po in anticipo guardate quello che ho preparato tramite l'app foto si ho scelto queste tre foto di ricky e nea che sono tra le mie preferite le ho incorniciate scegliendo appunto il colore della della cornice e le ho fatte stampare sono stupende io momentaneamente le ho appoggiate al mobile della nostra camera della nostra camera da letto e credo le lascerò lì perché mi piacciono molto ma ovviamente si possono appendere ecco qui non solo ho incorniciato anche questa nostra foto di famiglia giusto per averla sempre con noi e sempre tramite l'app foto si ho realizzato questo fotolibro raccoglie tutte le nostre foto scelte anche queste tramite tramite l'app poi personalizzato con scritte e devo dire una bella idea regalo un regalo unico originale da fare ai papà scaricate l'app foto si cliccando su questo sticker e vi ricordo che ancora attivo il mio codice sconto paola 10 su una spesa minima di 30 euro avrete uno sconto di 10 euro via 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 Grazie a tutti.